su come è andata la qualità dell'aria nel periodo del lockdown. Il lockdown è stato anche uno straordinario esperimento irripetibile per molti versi per verificare l'effetto di una riduzione così consistente sul traffico nei confronti della qualità dell'aria. Noi abbiamo sostanzialmente concentrato in passato le nostre politiche di contrasto alle emissioni inquinanti soprattutto sulle limitazioni del traffico. Questo esperimento ci ha fatto vedere alcuni dati che non sono proprio in linea con questa convinzione. Anzi, si è in qualche modo confermato che il traffico non è la principale delle cause che peggiorano la qualità dell'aria nelle nostre aree metropolitane e nell'intero Baccino Padano. Forse vale la pena di vederlo con qualche dato. Vi mostro quattro slide che abbiamo usato durante l'incontro che fanno vedere come è stato l'andamento del traffico utilizzando i dati del progetto Move-in. Sapete che abbiamo fatto questo progetto che permette di installare a bordo una scatola nera che registra i movimenti. Ce ne sono circa 10.000 installate, più di 10.000, 8.000 su veicoli privati, 2.500 su veicoli commerciali. Questo è il grafico che fa vedere in verde per le autovetture, in giallo per i veicoli commerciali come è stato l'andamento del traffico. Come vedete, fino a febbraio sostanzialmente è un traffico ordinario, poi c'è un buco che si distende per tutto il mese di marzo e di aprile e poi, col mese di maggio, il traffico ritorna progressivamente. Quello commerciale già alla normalità, quello privato verso valori più alti e stiamo ritornando adesso, nel mese di giugno, alla normalità. Però vedere cosa è successo con un blocco del traffico che ha ridotto le percorrenze fino al 75% in Lombardia, di circa il 70% mediamente nel bacino padano, è interessante. Cosa è successo alla qualità dell'aria? Uno si potrebbe aspettare, beh, ridotto il traffico al 70%, la qualità dell'aria migliora di una percentuale analoga. I dati non ci dicono questo. In tutto il bacino padano l'andamento delle inquinanti si è ridotto per gli ossidi di azoto di circa il 40%, per le polveri sottili, il PM10, di circa il 14%. Meno 70% il traffico, meno 40% gli ossidi di azoto, meno 14% le polveri. I Lombardia dei dati sono ancora più bassi, meno 75% il traffico, meno 35% gli ossidi di azoto, meno 11% le polveri sottili. Se guardiamo questa immagine che mette a confronto l'andamento delle concentrazioni del PM10 in due stazioni, una in centro a Milano, l'altra a Brescia, i valori tratteggiati in giallo sono i valori massimi e minimi dell'ultimo decennio e quello in azzurro è il valore che abbiamo registrato tra gennaio e la metà di aprile. Come vedete, l'andamento del PM10 sia a Milano che a Brescia nonostante il lockdown è rimasto all'interno della fascia di oscillazione degli ultimi dieci anni. Cioè non è neppure sceso al di sotto di quello che senza blocchi del traffico negli anni più favorevoli dal punto di vista meteoclimatico avevamo ottenuto. C'è un dato ancora più interessante. Se guardate alla fine di marzo, il 28-29 marzo, c'è stata una tempesta che ha portato pioggia con polvere desertica che proveniva dall'Asia e lì c'è stato diritto uno sforamento in pieno lockdown alla fine di marzo. Le polveri hanno registrato il valore più alto del decennio proprio durante il lockdown. Quindi questo conferma che il fattore più critico è quello meteorologico e climatico, non è l'andamento del traffico. Se guardiamo invece i dati sugli ossidi di azoto, passiamo a quella successiva, qui si vede che invece l'effetto del lockdown ha ridotto più significativamente al di sotto della media del decennio, soprattutto dopo la metà di marzo, i valori di quest'anno. Dunque il traffico spiega in maniera più significativa le concentrazioni di ossido e di biossido di odoto che è l'altro inquinante oltre alle polveri sottili per cui siamo in procedura di infrazione con l'Unione Europea e quindi che dobbiamo tenere sotto controllo. Infatti il valore complessivo, lo dicevo prima, meno 40%, però anche qui meno che proporzionalmente, vediamo l'ultima slide, rispetto alla riduzione del traffico. Questo è l'andamento dal 2011 al 2020 negli ultimi dieci anni a Milano e a Brescia degli ossidi di azoto. Si vede che quest'anno a Brescia, ancora più che a Milano, c'è una riduzione significativa, ma come vedete non c'è un crollo paragonabile a quello che abbiamo visto sull'andamento del traffico. Quindi in sintesi dobbiamo occuparci certamente ancora del miglioramento della qualità dei veicoli, ma dobbiamo anche occuparci, ne abbiamo parlato con gli assessori, del miglioramento degli impiatti di riscaldamento, cominciando soprattutto da quelli a biomassa, cioè che utilizzano legna, pellet, derivati della legna, e dobbiamo intervenire sulle polveri secondarie che si ricompongono in atmosfera, in particolare qui vuol dire intervenire sulle emissioni dell'agricoltura, ecco, non più accanirsi solo sul traffico. Questo avrà una conseguenza. Dal primo di ottobre avremmo dovuto, secondo l'accordo di Baccino Padano, prevedere il blocco dei diesel Euro 4, stiamo riflettendo su qualche modalità che anche alla luce della crisi che c'è stata ci porti a rivedere questa decisione e ad applicarla in maniera più criteriata e conforme, meno penalizzanti in un momento già così critico come quello attuale.